La promozione del bene della famiglia e la grave crisi umanitaria causata dalla recente epidemia di virus Ebola in Africa occidentale sono state al centro del colloquio di Papa Francesco con il Presidente della Repubblica del Ghana, John Dramani Mahama, ricevuto in visita ufficiale in Vaticano. Nel corso dell'incontro sono state rilevate le buone relazioni esistenti tra la Santa Sede e il Ghana, sottolineando il positivo contributo che la Chiesa Cattolica offre in ambito sociale, educativo e sanitario, nonché per la promozione del dialogo tra le diverse componenti della società.